L'arrivo della primavera, con le temperature che si assestano e diventano più miti, è il momento ideale per la semina del prato. Ma come fare? Ecco alcune utili indicazioni. La prima cosa da fare è scegliere correttamente il miscuglio. La scelta migliore è di solito rappresentata da un miscuglio di semi di tipo diverso. Una singola specie o varietà, infatti, è adatta solo per situazioni molto speciali, come prati all'ombra, su scarpate o in presenza di grande aridità. Per scegliere bene occorre valutare il clima, piovoso, siccitoso, mite o freddo, il tipo di terreno, compatto o arido, e l'esposizione all'ombra o al sole del prato. Infine, occorre tener conto anche della manutenzione, che potrà essere più o meno costante, e dell'uso che si intende fare del prato, se ornamentale o calpestabile. Se il miscuglio contiene almeno 4 o 5 specie di graminacee, il prato risulterà più robusto, resistente e adattabile. In commercio esistono miscugli da prato che sono adatti a ogni esigenza. La quantità di semente da spargere è di solito riportata sull'etichetta. Vanno evitati i dosaggi più elevati, che sono indicati solo in caso di semine tardive, nei mesi autunnali, oppure in presenza di situazioni difficili, o in caso di grandi infestazioni di malerbe. Si può invece aumentare la dose sui bordi del prato. Ma qual è il giorno giusto per la semina? La semina va fatta in un giorno sereno e senza vento, a spaglio o meglio con una seminatrice a rullo, effettuando due passaggi incrociati ad angolo retto. La semina a spaglio richiede esperienza, e per evitare l'effetto a macchia di leopardo, di solito si mescolano ai semi un'uguale quantità di sabbia, effettuando quindi un doppio passaggio. Dopo la semina si stende un po' di terriccio con il rastrello in modo da coprire i semi, e infine si innaffia a pioggia. Nel giro di due mesi l'erba può essere già folta e fitta. Se a crescita avvenuta il manto erboso risulta poco uniforme, con alcune zone fitte e altre spoglie, provate a riseminare la stessa semente. Infine, durante la germinazione ricordatevi di non camminare sul terreno seminato, finché l'erba non sarà cresciuta di qualche centimetro. Grazie a tutti.